Cari colleghi, signor Zermann, buongiorno. È il mio piacere di essere qui, per favore della Università di Bologna. Prima di iniziare a parlare di interazione di l'interazione del cuore e del sangue, credo che sia meglio di rilassare un concetto importante. C'è un'importante differenza tra la hipertensione pulmonare e la hipertensione pulmonare. La hipertensione pulmonare è una condizione hemodiname, in cui abbiamo un'increzione di pressione pulmonare pulmonare, più di 25 millimetri di mercurio at resta. La hipertensione pulmonare è una condizione clinica che soddisfi la definizione di hemodiname di pulmonare hipertensione. Questa è una risposta primitiva di vascular. Siamo che nella pratica di giorni abbiamo molti condizioni cliniche che possono soddisfi la definizione di pulmonare hipertensione. Quindi è mandato avere una classificazione clinica. Questa è una classificazione clinica delle guadaline europee. E, a meno che la hipertensione pulmonare è in primo lugar di questa classificazione, è la causa meno frequente di pulmonare hipertensione. Perché nella pratica di giorni, 90% dei pazienti con la risposta di pulmonare hipertensione hanno pulmonare hipertensione per la malattia di lunga o pulmonare hipertensione per la malattia di lunga. Siamo che PAH è una malattia multifattoriale. Abbiamo bisogno di predisposizione genetica, per esempio, mutazioni di BMPR2-receptore, di HALQ1, di Endoglin. Ma, per avere mutazioni, significa avere una malattia? Nebiamo dei rischi. Per esempio, la risposta di pulmonare, come un'anorexigenza, la malattia immunologica, come la malattia di tessia, virus come l'HIV, la hipertensione portale, l'overflamento, come la malattia di congenitale. Se non siamo capiti a detegare questo factor, parliamo di pulmonare hipertensione idiopatica. Tutti questi factor portano la so-called pulmonare vasculopatia, caratterizzata da disfunzione endotheliana, un'imbalanza tra i vasoconstrictori, perché nel PAH abbiamo un aumento di vasoconstrictori come l'endotelin-1 e una riduzione di vasodilatori come il nitric oxide e i prostacyclins. Tutta la pulmonare vasculopatia è potuta portare alla lunga normali, alla lunga pathologica, la pulmonare vasculopatia, una riduzione del totale cross-sectiono di pulmonare vasculopatia. E, despite pulmonare arterial hipertensione che è una malattia primitiva, il paziente mora per il dolore. Ma sappiamo che il dolore può essere il primo movimento per la malattia di malattia. Immagino un paziente con la malattia di malattia con la malattia di malattia di malattia, questo stress di malattia può portare alla pulmonare vasculopatia e, una volta, il dolore è la mano di questo paziente perché il incremento di malattia di malattia porta a malattia di malattia. Quindi, la funzione del dolore è un corno importante nei sistemi cardiovasculi. Ma cosa significa la funzione di malattia di malattia? La funzione di malattia è la cooperazione tra funzione ventricolare e funzione vasculare. Funzione ventricolare dipende dalla fisiologia, se ricordate, dalla preload, contractility e l'afterload. La funzione vasculare, in altre parti, dipende dal flusso pulsativo e delle valli riflettive. Se vuoi che il sistema cardiovasculare funziona bene e il sistema cardiovasculare funziona bene quando abbiamo un output di malattia di cardia, una pressione di right e una pressione di left atrial, bisogna la cooperazione di queste due funzioni. La funzione ventricolare è la funzione del contratility index. Il contratility index è expressato dal ratio di pressione di pressione e volume di systole. E la funzione vasculare. La funzione vasculare è expressata dal pressione di pressione e di volume di rischio. Quindi, se vogliamo che il sistema funziona bene, bisogna la cooperazione di due. Non è importante aumentare la contratility, è importante anche ridurre pulmonare vasculare elastanza del contratility. index lo che sappiamo del contrativo del contrativo e, of course, un'increase di contratilità. C'è un'increase di l'interlado, quindi abbiamo anche un'increase di contratilità. C'è anche un'increase di arterial elastanza. Questo è per causa della malattia pulmonarica vascular. Ma, se potete vedere qui, se pre-treatiamo questi PICS con un antagono endotelarecettor, un'antagonistica di pH specifico, possiamo vedere che abbiamo un'increase di l'interlado arterial elastanza. Quindi, a causa della sviluppazione di hipertensione pulmonarica, il ventrilo e la arteria pulmonarica continuano a lavorare. Il stesso risultato è stato ottenuto anche con il hipoprostanol. E, di nuovo, in PICS, possiamo vedere che con il hipoprostanol c'è una riduzione di pulmonarica arterial elastanza. la riduzione del lato dopo, quindi, a meno di pulmonarie hipertensione, ventricle e pulmonarie arterie sono lavorando in coupling. Cosa per il uomo? In questa slide possiamo comprare i soggetti normali e i pacienti con pulmonarie arteriali hipertensione. Il minuto PAP nei controlli è 12, normal. In pacienti con PAP è 60 mm di mercurio, di minuto pulmonarie arteriali, quindi, severe pulmonarie arteriali hipertensione. Come potete vedere qui, il indice di contratilità è aumentato in pacienti con pulmonarie arteriali hipertensione, ma questi pacienti non lavorano bene, non sentono bene. Perché? Perché abbiamo, in un'altra parte, un aumento del indice di contratilità, ma abbiamo anche un aumento molto più di pulmonarie helostans. Quindi, il ventricle e la pulmonarie arterie non lavorano bene, come è espressato dal ratio. Quindi, il primo movimento della pulmonarie ventricle in pulmonarie arteriali hipertensione è l'incrase di pulmonarie arteriali helostans e l'incrase di dopo. Ma perché il indice di contratilità non è potuto aumentare molto? Il primo problema è l'ischemia, perché, ovviamente, abbiamo un'imbalanza tra il flesso coronale e il richiesto del myocardium, il ventricle destro. Metabolismo, c'è un'imbalanza tra l'uso di glucosa e l'acidio free. E non ricordiamo il ruolo dei neuromani. In pazienti con pulmonarie arteriali hipertensione, abbiamo un'incrase di endotiline 1. E sappiamo che l'endotiline 1 è un potente coronale vasoconstrictor. Quindi, il problema è l'incrase di pulmonarie, non solo perché se il ventricle destro è potuto lavorare con la pulmonarie arteriali, non abbiamo problemi. Ma ogni volta che il ventricle destro non è potuto aumentare il pulmonarie pulmonarie parliamo di un'incrase di ventricle arteriali ventricle. Quindi, è importante come il ventricle destro è potuto vincere l'afterlode. Abbiamo fatto questo studi per assicurare il valore del prognostico dei modelli del ventricle destro in pazienti con pulmonarie arteriali hipertensione. Abbiamo avuto 530 pazienti di pH, 290 pazienti con l'idiopatica, irritabile e drog-induzione di pH, 135 pazienti di pH associato con la malattia connessione 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 e 105 pazienti di pH associato con la malattia connessione 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 connessione. Tutti questi pazienti hanno avuto distanza 6 minuti di distanza, ecocardiografia e catheterizzazione. Tutti i pazienti hanno avuto distanza, ecco le regole europee, seguendo una strategia di trattamento di trattamento. Con un'analisi multivariata in pazienti con l'idiopatica, irritabile e drog-induzione di pH, ci siamo scoperto come un fattore pronostico negativo, un po' di male, un'ascita vecchia, una capacità di pesce, e un'incita di right ventricola e diastolic area index. In patients with connective tissue disease, once again, exercise capacity, a reduction of right ventricular acceleration time and a reduction of right ventricular ejection time. In patients with congenital heart disease, we can see again exercise capacity as a negative pronostic factor if it is low, and right ventricular and diastolic area index. Because of right ventricular and diastolic area index were related, was a prognosis in the majority of our patients, we decided to create a model of remodeling according to right ventricular area index and the entity of tracuspid regurgitation. So, we define it as adaptive when right ventricular and diastolic area index is lower than 18 and there is not tracuspid regurgitation or at least mild tracuspid regurgitation. Maladaptive when right ventricular and diastolic area index was between 19 and 21 with moderate tracuspid regurgitation. And severe dysfunction when we have a big enlargement of right ventricle as shown by right ventricular and diastolic area index more than 22 plus severe tracuspid regurgitation. What about survival? As you can see, into the clinical subgroup, we can see that if the patient is able to have an adaptive model of remodeling is associated with a better survival. In according to the same model of remodeling, patients with a pH associated with connective tissue disease, despite the model of remodeling, are associated with a very poor prognosis. But what can we do on the afterword? If we look at the meta-analysis of all studies in which pH-specific drug therapy were studied, we can see that to treat patients with pulmonary arterial hypertension is associated with an improvement of survival. And if we analyze studies in which hemodynamics was studied, we can see that we are able with the drugs to reduce pulmonary vascular resistance. And it was confirmed also in this other study. So, on the other hand, if we are able to reduce pulmonary vascular resistance, we are able to improve the ventricular arterial coupling, as shown by, for example, this is our study with magnetic resonance. After treatment, we can have a reduction of right ventricular mass. And we can see this in all clinical conditions in which we are able to normalize the afterload. For example, in patients who are a responder to acute vasoreactivity test after lung transplantation or after the surgery, after endorterectomy. This is a typical patient, a long-term responder to the acute vasoreactivity test. So, he received the treatment with high dose of calcium channel blockers. And as you can see here, after 28 months, at front of a normalization of pulmonary vascular resistance, there is also an important reverse remodeling of the right ventricle. Once again, this is a young patient who underwent double lung transplantation for chronic thrombembolic disease. This is before the transplantation, an important enlargement of right heart chambers, and on the right, the complete reverse remodeling of the heart. And this is a patient who underwent endorterectomy. After six months, we have a complete normalization of the RV. But this is due to a complete normalization of the afterload. So, in conclusion, right ventricular function is important in pulmonary arterial hypertension, but it is influenced by multiple mechanism. The right ventricular failure is due to a much more increase of the afterload in comparison with the increase of contractility index. And the rule of the treatment is not to increase the contractility, but the rule of the current treatment and for the future treatment is to reduce the afterload to improve the mismatch between right ventricle and pulmonary arteries. Thank you very much. Thank you, Massimiliano, for the complete presentation. The discussion is open for the question. I have a question about the role of the drugs regarding the inverse remodeling of the right dilatation. It is well known the role of surgery or transplantation on right ventricular function and dilatation. But I would like your experience about the role of drugs in the specific form of pulmonary arterial hypertension. Thank you very much. This is a good point. Because, as I showed, we have in one hand a magical reverse remodeling. But we are able to reduce pulmonary vascular resistance in only three few cases. In other cases, we have an improvement of the right ventricle. But we are not able to achieve the normalization. Why? Because if you remember the slide, if we treat the patient, we are able to improve the survival. We are able to improve the hemodynamics. But the change is very, very poor. We are able to reduce only four units of PVR. But we don't forget that we are talking of severe pulmonary arterial hypertension. So the main value of PVR is around 10, 12, 15 good units. So, it's better than nothing. But I think the future, we have to think for the future. In fact, when during the meeting or companies ask if you want to study a new treatment, which is your end point? No exercise capacity. I have to improve survival. But by this physiological study, we know that to improve the survival, we have to achieve a good coupling between the right ventricle and the afterload. So, we don't need to increase ventricular contractility because it doesn't work. In fact, there was a study, these drugs that increase the contractility index. But if we don't remove the afterload or in other way, if we are not able to reduce the afterload, the system will not never work in good condition. Thank you. There is a question? Yes. Claudio. Thank you. Thank you. Interesting talk. Can two very brief questions related to the same topic. What do you think the place, if any, for the new guanylate cyclase stimulators? And what is your, are you concerned, what is your position on the fact that it seems that the major side effect of this kind of drugs are pulmonary hemorragies? Is there a fact of concern or not? So, I think, despite, is under regulatory approval, yes, by FDA and is ongoing by EMA, we are talking about Riosiwatt. And so, and I think, I think there is a space, but for these new drugs, will not change the field of pulmonary arterial hypertension. I think this is another new drug, if we want to use in daily practice. There is a problem, not only for lung hemorrhage, but also we cannot use with PDE5 inhibitors. And we have many patients already in treatment with PDE5 inhibitors. So, there is improvement. Once again, improvement of exercise capacity, but we need to see in the daily practice, and we need a long-term result to see if this drug is really, it's really help our patients or not. But my, my, my feeling is, it's like to have another PDE5 inhibitors, another endotinary receptor antigen is nothing more. I believe much more, for example, for Massington, because I don't know if it is due to policy of the brand, but she, they were able to obtain an improvement of survival. And so, in, 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 in our era, I think it's better to have a drug, it's able to improve survival than exercise capacity. Thank you very much. Thank you very much. So, I thank you very much. Questo è l'unico senso che suggerivano di cercare, perché era impredicabile che i pazienti presentaranno nella futura pulmonare la hipertensione pulmonare. Ora, percutaneziamo la percutanica, quindi è facile suggerire di cercare immediatamente il defecto di semplice. Un'altra considerazione della fisiologia, la scelta del ventrilo, credo che magari avete la risposta giusta, non è relato alla risposta, perché in congenital pulmonare stenosis la pressione del ventrilo è molto più alta che la pulmonare hipertensione primaria o secondaria pulmonare. e il ventrilo del ventrilo funziona per molti anni, magari vedete questa scelta del ventrilo molto lato nella vita, non molto lato, ma lato sufficiente per considerare che molti altri fattori, come suggerivano, influenzano la scelta del ventrilo del ventrilo. Cosa credete? Quindi credo che bisogna sapere meglio il ventrilo del ventrilo e probabilmente è, ovviamente, multifattoriale. Ma il ventrilo è un problema importante, perché solo se possiamo ridurre, possiamo migliorare la funzione. La funzione difficile significa il tutto il sistema e il survival. Ch等等. Grazie.